Regina di cuori dedicata a Francesca Agostinelli, la mia amica carissima che è qui con me oggi per parlare di una cosa che adesso tra poco diremo perché adesso presento appunto Francesca, ciao Francesca Ciao a tutti, ciao Nicletta, grazie per questa dedica meravigliosa, infatti ho il cuore in gola che batte forte Sì ma adesso ci divertiamo Ci divertiamo Allora adesso sigla Radio R presenta Appuntamento con l'arte, conduce Nicla Bentrovati amici all'ascolto di Radio R, io sono qui come vi ho già anticipato con la mia amica Francesca Agostinelli perché adesso parliamo di una cosa bellissima ed è capitata per caso come tante cose capitano con Francesca chi la conosce lo sa, è da tanto tempo che parlavamo, l'ho già invitata qua nella mia trasmissione a parlare di una materia che lei conosce bene ed è la tarologia Quest'anno grazie al suo invito abbiamo preparato un corso Uniper, Università di Istruzione Permanente Don Giovanni Simonetti di Recanati, ti dà fastidio se c'è sotto la musica? No, no, assolutamente Perfetto È il mio preferito Sì Non posso farne a me La mia dose quotidiana Dicevamo di questo corso che è la prima volta È la prima volta Prima volta insieme Di nuovo Per tutto, la prima volta insieme È la prima volta anche che l'Uniper presenta un corso così particolare Allora Francesca, vuoi dirci l'obiettivo? Cosa ti ha spinto a proporre questo corso e a coinvolgermi anche? Allora, innanzitutto ringraziamo Aurora e tutta l'Uni Permanente per averci accolto all'interno di una situazione nella quale loro avevano anche già predisposto i corsi Quindi noi come nostro solito, con la nostra eruenza, siamo entrate alla fine e per fortuna sono stati tutti molto accoglienti e carini Quindi grazie di cuore perché veramente noi in coda siamo arrivate Sì, è vero Quindi questo Grazie a tutto il comitato scientifico dell'Uni Esatto, per questa grandiosa accoglienza E opportunità E opportunità, esatto Quindi è una grande opportunità e ringrazio anche mia cognata Silvia perché mi ha spinto a fare questo Ciao Silvia Quindi Silvietta è stata fantastica perché come voi amiche, compresa tu, molte volte mi spingete a fare delle cose e io mi trattengo sempre e loro ho detto va bene, questa volta d'ho retta a mia cognata per una volta nella vita d'ho retta a qualcuno e ho pensato sì, però da sola non ce la posso fare e quindi ho coinvolto te che sei per me, come dire, una delle lame bellissime dei tarocchi per me tu sei l'energia pura e quindi Sono anche vestita di rosso Assolutamente di rosso, quindi potrei dire e poi spiegheremo ai nostri telespettatori che è una delle lame bellissime del mazzo dei tarocchi il diavolo, nel senso che tu sei la mia proprio... sì, l'istinto e la creatività quindi chi meglio di te avrei potuto avere come compagna Grazie Darmi, come si suol dire Grazie, grazie, grazie E comunque noi in questo corso vogliamo proporre la... come dire la... adesso non mi viene molto la parola cioè l'opportunità ecco, l'opportunità di far conoscere i nostri amici tarocchi al di là di quello che tutti nell'immaginario o quasi tutti nell'immaginario collettivo pensano la zingara, i tarocchi, la divinazione che cosa mi accade predire il futuro ecco, la tralasciate tutto ciò perché questo è un altro campo, un altro spazio e al momento non ci interessa affatto e noi abbiamo la voglia di proporre il tarot come strumento eclettico che abbraccia molte discipline moltissime e quindi è uno strumento di alta conoscenza e perché ho pensato anche a te oltre appunto all'entusiasmo e alla creatività la spinta sempre che tu mi dai proprio perché tu in qualità di esperta d'arte entrambe possiamo mettere noi in campo io la mia passione per i tarocchi perché non sono una studiosa con lauree però li conosci bene sono venti anni che non li frequento e quindi grazie anche a molte persone che poi nel mio percorso ho incontrato e che mi hanno donato molto da questo punto di vista e quindi chi meglio di te poteva affiancarmi proprio nell'espressione nel mettere a fiancare appunto uno delle tante ecletticità e capacità dei tarocchi quella di associarsi all'arte perché? perché le carte sono un mondo artistico pieno di segni, di simboli, di metafore e quindi si avvicinano molto ai quadri che io spesso guardo e ammiro e tant'è non so se ve l'ho già detto altre volte quando c'era Francesca ma io i tarocchi non li conoscevo non sapevo nemmeno cosa fossero le carte le associavo anch'io sempre alla zingara, alla cartomante ai maghetti che leggono il futuro a dei poveri sventurati che si affidano alla loro divinazione al di là di questo però non conoscevo bene questo mondo ed è nato per caso proprio a casa di Francesca quando ho visto le lame subito mi hanno affascinato proprio il loro mondo e le figure la configurazione come erano impostate e lei mi ha fatto vedere i tarocchi di Marsiglia ma poi mi ha fatto vedere anche altri mazzi che porteremo al corso qualche altro mazzo artistico solo che io ho visto per prima quelli di Marsiglia mi sono rimasti nel cuore e dopo dirò anche perché al corso e devo dire che è stato un colpo di fulmine e è nato questo gioco anche per impostare un po' il discorso dell'Uniper ogni carta che mi faceva vedere Francesca io l'associavo a un'opera d'arte esatto abbiamo cominciato con il giudizio è stata la prima carta anni fa anni fa la prima lama del giudizio e io quando l'ho visto dico ah ma qua c'è Masolino da Panicale ma anche Bilbiol quindi è nata questa idea nel corso degli anni come appunto ha detto Francesca di abbinare il tarocco all'arte solo che il nostro è un corso un po' diverso perché non presentiamo i tarocchi artistici esatto ma presentiamo quello che io vedo nei tarocchi esatto le opere d'arte che vedo nei tarocchi e devo dire che mi sono limitata perché perché abbiamo solo un'ora perché abbiamo solo un'ora e quindi abbiamo scelto alcune opere quelle per me più significative perché se no altrimenti se ne potrebbero dire di cose e far vedere immagini artistiche che sono in sintonia con i tarocchi a noi piace a noi piace tanto perché siamo molto entusiaste quindi poi al di là dell'impegno perché è stato impegnativo ci siamo preparate c'è una preparazione dietro e io quando dico gioco non è quel giocino ecco no cioè perché ci ha preso del tempo perché c'è da studiare lo studio anche anche per evitare di dire come si dice volgarmente frescacce insomma quindi veniamo a dire comunque le cose vere basandoci poi io personalmente sto studiando studiando su alcuni libri non è nulla di inventato poi al di là del fatto appunto l'evocazione e la sensazione che suscita che ha suscitato ogni singola lama a te nel andare ad associarla a delle particolari opere che tu appunto hai sentito dentro che io ho sentito dentro esatto che ho associato immediatamente e per alcuni è stato facilissimo per altri magari un po' meno ho avuto bisogno qualche input in più quindi praticamente diciamo che è un corso dove noi ci siamo divertite perlomeno io proprio mi divertite e speriamo appunto di divertire anche coloro che ci seguiranno esatto sono aperte ancora le iscrizioni per il corso? le iscrizioni sono aperte quindi chi volesse alla segreteria appunto dell'Uniper può andare in ogni momento insomma durante la settimana dalle 16 credo se non dico una cosa errata fino alle 19.30 che è poi l'ora insomma nella quale c'è la conclusione di tutti i corsi volevo anche aggiungere che noi avremo la possibilità appunto di riunirci fare questi dieci incontri all'Uniper di cui quattro sono dedicati a quattro ospiti i nostri ospiti che vogliamo ricordare proprio per avvalorare e far conoscere come dicevo all'inizio pochi minuti fa proprio il valore eclettico l'abbraccio che il tarot riesce a fare nei confronti delle discipline della conoscenza quindi avremo Barbara Malaisi Barbara Malaisi docente universitaria e scrittrice ci sarà il 31 gennaio tarocchi e letteratura l'intervento ha il titolo di un gioco di specchi narranti per una lettura semi-terrologica del castello dei destini incrociati di Italo Calvino quindi il 24 iniziamo noi con la presentazione il 31 gennaio Barbara Malaisi il 7 ancora noi il 14 febbraio tarocchi e cabala intervento di Giusy Sheen a Portone l'Alef Beit non so se ho detto bene i 22 sentieri e il tarot la cabala la cabala è una materia che io non conosco per niente però so che è legata a Recanati per via di un cabalista famosissimo che era Menachem Recanati il 21 febbraio tarocchi e psicologia intervento della dottoressa Paola Nicolini il titolo dell'intervento è processo di individuazione simboli e segni nella psicologia junghiana molto bello la famosa teoria della sincronicità che quindi è spesso rilevata per ciò che riguarda proprio la capacità di lettura quindi nelle stese e nelle letture appunto dei tarocchi il 28 febbraio noi il 6 marzo tarocchi e musica intervento della professoressa Lucia Brandoni con il titolo la simbologia dei tarocchi nelle canzoni di Fabrizio De Andrè esatto anticipiamo ovviamente il grazie alle nostre bellissime e con grande entusiasmo ci hanno assecondato e hanno accettato il nostro invito quindi a maggior ragione siamo ancora più emozionati e orgogliosi sì esatto allora mancano ancora un po' di minuti quindi possiamo ricordare il nostro appuntamento per venerdì 24 gennaio alle ore 18 e 30 a luni per direi canati quindi palazzo venieri il corso si chiama scopri la carta l'arte nei tarocchi e senti Francesca ma quando è che hai iniziato ad amare i tarocchi tu? eh io ho iniziato 20 anni fa così per caso stavo guardando la televisione stanca sul divano un attimo il rilassamento del dopo pranzo e stavo appunto rimettendo in ordine i miei pensieri su che cosa avrei dovuto poi affrontare per tutto il resto della giornata ed è passata magicamente questa enciclopedia dei tarocchi ed è stato un colpo di fuori in televisione? in televisione sì in televisione tant'è che mi ero anche così un attimino meravigliata perché ho guardato pensando che fosse la mia fantasia no era la realtà quindi sono scesa di sotto dal giornalaio che era poco lontano da casa mia e ho iniziato la mia avventura con i tarocchi ho iniziato appunto a leggere e a leggere la loro simbologia la storia e così poi pian piano ho iniziato a fare qualche piccolo esercizio ed è un amore che è ancora ridibile e mi insegnano molto e sono sempre per me una fonte inesauribile di crescita di conoscenza di consigli veramente poi dopo sta a noi tutti prenderlo come dire nel modo giusto nel senso che rimettersi in discussione fare un'introspezione con se stessi non è mai cosa facile ma è una cosa meravigliosa perché ci permette sempre appunto di oltrepassare ogni confine e di dare donare a noi stessi la capacità di raggiungere un traguardo per poi iniziare sempre una nuova avventura nella nostra vita di riscita di riscita